Il sesto uomo siete voi. Non solo uno slogan, ma un atto di riconoscenza verso i propri tifosi che la VL ripaga con abbonamenti a prezzi ribassati di circa il 10% in vista del campionato 2023-2024. Si parte dalle tariffe popolari di 110-135 euro per la curva e dei 120 euro per il parterre fanzone. E poi ancora, tribuna spicchi 225 euro, laterale 315, centralissima 360, parterre 600, poltroncine VIP 1500. Un risparmio in alcuni casi più che dimezzato sui singoli biglietti che saranno di 20 euro in curva, 35 in tribuna, 60 in parterre e 100 in poltroncina. Abbonamenti che andranno incontro ai tifosi regalando a tutti una sciarpa e dando pure la possibilità di rateizzare l'acquisto per chi possiede un conto corrente alla banca di Pesaro, storico sponsor della VL. Crediamo di aver fatto questo sforzo perché riteniamo che il nostro pubblico li vogliamo molto bene, lo vogliamo sempre presente, lo vogliamo che ci aiuti per trascinare la squadra, per fare tante cose importanti. E quindi abbiamo pensato che forse era meglio andare incontro appunto in un momento dove tante fatiche si fanno per tirare avanti la baracca. Andare incontro ai tifosi e rendere onore alla loro memoria. È il caso delle compianto Marco Piccoli, anima dell'inferno bianco-rosso, al quale verrà intitolato il settore K e al quale è stato dedicato un minuto di silenzio durante la conferenza di presentazione degli abbonamenti tenutasi all'hotel Baia Flaminia. Marco è stato, poi parlo io e come potrebbe parlare Walter e tanti altri, lo abbiamo vissuto per tantissimi anni come una persona simbolo di Pesaro e quindi credo che meriti questa intitolazione, lo ha sempre meritato e speriamo che da lassù possa rendersi conto che lo stiamo sostituendo benino. Sarà invece intitolata all'indimenticato Alfonso Ford la cosiddetta fanzone, novità dello scorso anno. Per quanto riguarda gli abbonamenti saranno mantenute le promozioni family e porta un amico. Nell'ottica della nascente Casa VL ci sarà uno sconto del 10% per chi è abbonato alla piscina Facchini così come ci sarà la possibilità dell'acquisto di un tavolino per quattro persone nel settore N4. La campagna abbonamenti partirà il 24 agosto con le prelazioni ai vecchi abbonati. Dall'11 settembre via alla vendita libera in tutti i posti. Il campionato inizierà il 1 ottobre a Brescia e avrà il battesimo a Pesaro l'8 ottobre con Venezia. Sì, è tosto, è tosto ma ci faremo trovare pronti. Vediamo un attimino, ci faremo trovare pronti. Credo che, intanto, io credo che le squadre più forti si possono incontrare, se si possono incontrare prima è meglio. Un calendario da aggredire con un roster completato in tempi celeri. Sono contenti della campagna giocatori, credo che ci sia un bel mix tra gioventù ed esperienza, quindi aspettiamo soltanto di partire con il ritiro per cominciare a sudare e a lavorare.